Si chiama In cornice, il libro con il quale il critico Mario Rocchi racconta le vicende artistiche degli ultimi 60 anni a Lucca. Il volume ricostruisce in maniera meticolosa i profili dei personaggi e gli eventi del mondo dell'arte lucchese dagli anni 50 ai giorni nostri. La vitalità artistica della città nella ricostruzione di Rocchi raggiunse il suo apice negli anni 70, in particolare per il gran numero di pittori che organizzavano esposizioni dentro le mura. Poi questa attività si è molto affievolita nei decenni seguenti. Ora non ci sono più le gallerie praticamente come una volta. Una volta si contavano addirittura 13 gallerie a Lucca. Erano tantissime perché tantissimi erano pittori, tantissimi erano quelli che le volevano esporre. Adesso Spiega Rocchi si punta molto sulle grandi mostre e sui personaggi di caratura nazionale e tra i protagonisti di questa nuova fase ci sono la galleria Ascher, Poleschi e il museo Lucca. E i pittori lucchesi? Rocchi spiega che ne sono rimasti pochi e non ne vede nessuno di grandissimo talento. C'è qualcuno che vale, però non c'è nessuno che assogge a meriti nazionali. Come un tempo invece c'erano pittori mediocre, c'erano mediocre, però c'era anche qualcuno. Diciamo che è assurdo la importanza nazionale. Infine il critico lancia un suggerimento agli amministratori locali utilizzare l'ex Real Collegio come contenitore di prestigio per ospitare una mostra di pittura di livello internazionale, come fanno nelle città del Nord Italia. Per far vedere che Lucca è viva anche nel senso delle arti. Si potrebbe fare, ma in questo senso qui. Per i pittori c'è poco da fare. I pittori o ci sono o non ci sono.